Con Stefano Lavarini, allenatore della Foppa Pedretti Bergamo, per parlare di un grandissimo successo contro peso, un 3-0 secco. Allora Stefano, com'è andata? Cos'è che ha funzionato in questa gara? Oltre alla difesa, che diciamo che è l'elemento che vi contraddistingue. Abbiamo vinto una partita difficile, non abbiamo giocato super bene, nel senso che abbiamo avuto non troppa qualità, soprattutto in ricezione. Però diciamo che oggi abbiamo avuto ancora più carattere forse di altre situazioni, perché altre volte è stato così evidenziato il carattere della nostra squadra. Però ci sono delle situazioni in cui non solo il carattere è quando gli altri fanno bene e te cerchi le contromisure, è quando te fai male e in maniera rabbiosa riesci magari a strappare dei punti importanti o a tornare su da una situazione difficile. E con questo carattere secondo me abbiamo tirato fuori tre punti veramente importanti, con una squadra che ultimamente ha messo in difficoltà tutti e ancora una volta noi non gliel'abbiamo consentito. Quindi sono piuttosto contento di questo, hai ragione a iniziare il discorso della difesa, siamo stati credo piuttosto regolari al servizio, nel senso che gli abbiamo messi abbastanza in difficoltà con un numero di errori abbastanza basso. E questo non era facile perché loro si permettono di ricevere tantissimo a due, tante rotazioni a due, perché sono molto forti i loro ricevitori, quindi siamo stati bravi a gestire questo tipo di situazione qua. E in attacco comunque abbiamo trovato, tolto questo set nei primi due, delle belle soluzioni, delle belle situazioni. Anche se, ho detto, non l'abbiamo ricevuto come il nostro solito, non siamo stati sempre precisi nelle situazioni di gestione del contrattacco, della palla. Però, oh, punti importanti. Per noi, come Pesaro, ma per tutte le altre squadre, è importante subito stare lì sul pezzo, diciamolo. E' importante avere costanza e avere, oltre alla costanza, appunto questa continuità che ci deve iniziare a caratterizzare da un punto di vista sia di attenzione e proprio della mentalità.